Lasciandoci prendere dall'egoismo, noi esseri umani abbiamo rovinato il creato che ci è stato affidato da Dio. Abbiamo corrotto la creazione rendendo la schiava, sottomessa la nostra caducità. Ma anche in questo quadro desolante il Signore non ci lascia soli, ci offre una prospettiva nuova di salvezza universale. Lo ha ricordato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta in piazza San Pietro sul tema «Nella speranza ci riconosciamo tutti salvati». Quando rompe la comunione con Dio, ha spiegato ancora il Pontefice, l'uomo perde la propria bellezza originaria e finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa. Pensiamo all'acqua, aggiunto a braccio, che ci dà la vita, ma noi per sfruttare i minerali la contaminiamo, così si sporca e si distrugge la creazione. L'orgoglio umano, sfruttando il creato, lo distrugge. Ma San Paolo, nella Lettera ai Romani, invitandoci ad ascoltare i gemiti del creato, ricorda che sono quelli di una part oriente di chi soffre ma sa che sta per venire alla luce una vita nuova. E questo vale anche nel nostro caso. Noi siamo ancora alle prese con le conseguenze del nostro peccato e tutto attorno a noi porta ancora il segno delle nostre fattiche, delle nostre mancanze, delle nostre chiusure. Nello stesso tempo però sappiamo di essere stati salvati dal Signore e già ci è dato di contemplare e di pregustare in noi e in ciò che ci circonda i segni della risurrezione, della Pasqua che opera una nuova creazione. Questa è la ragione della nostra speranza, ha concluso il Papa. Il cristiano sa riconoscere intorno a sé i segni del peccato e del male, ma li legge con gli occhi della Pasqua, di Cristo risorto. Nella speranza sappiamo che il Signore vuole risanare definitivamente con la sua misericordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l'uomo ha deturpato nella sua impietà e che così rigenera un mondo nuovo e un'umanità nuova, finalmente riconciliati nel suo amore. Grazie a tutti.